Bella a tutti raga, oggi c'è un nuovo video molto semplice, un gioco che voi non saprete mai dove potete trovare Quindi iscrivetevi al canale raga, iniziamo subito Per prima cosa, per giocare a questo gioco dovrete andare, diciamo sulla rete wifi e levarla Quando si chiede perché devi levare la rete, è proprio per giocare Voi dovrete soltanto levare la rete Andare su internet E aspettare che apre Poi rimarrà così ovviamente Perché non c'è internet, non potrebbe mai andare Siccome ci metterà un po' Perché proverà in tutti i modi ad andare su internet, perché se internet è staccato Voi mi siete mai chiesti cosa ci può fare un drago sopra il perché non può andare Bene ragazzi, vedete questo traghino? Basta premere spazio E il gioco si avvia ragazzi Proviamo a fare un brevissimo gioco Bene, tocca solo fare un record che è veramente una cavolata E per saltare dovete schiacciare sempre spazio Ecco io ovviamente mi guardo mai Vabbè ragazzi, credo che per oggi sia tutto Lasciate like a questo video Iscrivetevi al canale raga E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga E noi ci vediamo al prossimo video